Avendo partecipato a questo progetto pensavo di trovare abbastanza immondizie ma addirittura di trovare un cespuglio pieno di bottiglie di vetro con una delle quali tra l'altro lei si è ferita perché era piena, chiusa e avendo fermentato insomma è esplosa quindi è anche pericoloso andare a in qualche modo togliere quello che gli altri hanno lasciato incivilmente. Quello che poi mi è piaciuto è il fatto che comunque siamo stati proprio dei ragazzi ad aver partecipato a questo progetto ed esiste sempre il luogo comune che siano i ragazzi maleducati, i ragazzi sono gli incivili, i ragazzi quelli che lasciano in giro senza curarsi per niente di fare, non dico tanto la raccolta differenzata ma perlomeno buttare le cose nei bidoni. L'idea di questa operazione denominata dal suo promotore Mi terrò la terra è stata di Vincenzo Chiappa, fanese doc, studente di Belle Speranze dell'Accademia di Belle Arti di Bologna con il buzzo dell'ecologia che quasi per scherzo ha dato appuntamento a chi non avesse nulla da fare alle 18.30 di lunedì scorso al parcheggio di Via della Giustizia a Fano per dare una ripulita a diverse parti della città. E sorpresa delle sorprese anche con la stessa meraviglia del suo promotore si sono ritrovati in ben 17 volenterosi in barba ai luoghi comuni che armati di sacchi neri e guanti protettivi ci hanno dato dentro per liberare il verde dalla sporcizia. Ho creato questo evento su Facebook senza pretese insomma e ho visto che comunque c'era molta partecipazione, molto interesse, sono venuti loro a partecipare insieme a me. Abbiamo raccolto nel parcheggio questo qui di Via della Giustizia, siamo arrivati anche fino ai passeggi. Altra sorpresa ma più amara della prima, la quantità infinita di rifiuti ammassati anche sotto i cespugli del parcheggio. Abbiamo trovato tantissima spazzatura in giro per questa poca area del parcheggio tra bottiglie di vetro, lattine, plastica in generale, sporcizia, cartacce, una batteria della macchina, una scarpa, per non parlare delle cicche di sigaretta che sono una cosa ormai comune purtroppo. Ma la cosa non finisce qui perché, buon sangue non mente, il giovane e talentuoso ecologista ne farà altri di repulisti. Vorrei mandarla avanti fin quanto si può, nel senso che creerò altri eventi magari con l'aiuto di altre persone, sempre comunque cercando di ampliare la cosa e farla diventare un po' più grande.